Questo può purificare la tua aura. Ha un bozzolo di energia propria, così che le energie esterne non lo disturbano. Sai, le persone usano delle energie negative per influenzare la vita degli altri. Indossare un semplice mala dà un certo livello di protezione per quella persona. Lo scopo principale è di renderti disponibile alla grazia. Vedi, ogni sostanza ha un certo riverbero, ogni cosa nell'universo. Ora stiamo cercando di identificare delle cose che ci spingeranno in una certa direzione. Non si tratta solo del Rudraksh. Piante, fiori, animali. Ogni cosa è stata identificata in base a cosa ti porterà in una direzione spirituale e cosa no. Hai sentito che questo fiore è il preferito di Shiva, questo fiore è il preferito di Vishnu. Stanno solo identificando un certo riverbero che si avvicina a ciò che noi chiamiamo Shiva o Vishnu o altro e dicono, questo fiore ti ci avvicina al massimo. Quindi che tu lo tocchi, lo riceva, ha un certo impatto. Quindi ogni cosa è stata identificata in questo modo. Il Rudraksh è uno di quegli oggetti che hanno un tipo di riverbero davvero unico. Ora, il Rudraksh è indossato sul corpo perché una cosa è che purifica l'aura. Sai cos'è l'aura? C'è un certo campo di luce e di energia intorno a ogni corpo, intorno ad ogni oggetto, ogni oggetto fisico, la sua aura. Anche gli oggetti inanimati. Oggigiorno viene fotografato e registrato in così tanti modi diversi. Purifica l'aura. L'aura può essere da un'aura nera come la pece a un'aura bianchissima. Se hai visto, forse non tanto in America, ma se hai visto una di queste immagini spagnole o indiane, vedrai, se mostrano un santo o un saggio, ci sarà sempre un'aureola bianca intorno alla loro testa. Non è che queste persone andassero in giro con delle lampadine dietro la testa. È solo che l'artista sta cercando di farti capire che questo è un essere puro. Aveva un'aura bianchissima. È questo che viene trasmesso. Quindi puoi avere un'aura nera, come la pece, fino a un'aura bianchissima. Se incontri qualcuno che si occupa di processi occulti, che fa delle cose con l'energia, se incontri una persona del genere, la maggior parte di loro sono solo degli impostori che usano pollo e code per spaventarti. Ma ci sono persone genuine in questo campo. In India ci sono tante persone. È un occulto molto sofisticato. Se li incontri, sono potenti in un modo molto diverso. Un'aura totalmente nera come la pece. Sono molto, molto potenti, ma in un modo completamente diverso. Quindi da un'aura nera come la pece a un'aura bianchissima. In mezzo ci sono un milione di sfumature. Questo può purificare la tua aura. Non significa che se indossi un Rudraksha domani mattina avrai un'aureola che brilla dietro la testa. Non così. Ma stai aspirando a purificarti. Quando aspiri a purificarti, ogni piccolo aiuto, ogni piccolo sostegno che ottieni, puoi farne uso. Un altro motivo per il quale viene portato dai sadhu indiani e dai mendicanti è che viaggiano costantemente. Una persona che mangia e dorme costantemente in luoghi diversi. Il suo corpo attraversa un certo livello di destabilizzazione. Nel senso, molti di voi potrebbero averlo notato. Se sei andato in un posto nuovo, anche se sei davvero sfinito, in qualche modo, in un certo posto, il tuo corpo non si calmerà e non dorme. Lo hai mai notato? Se sei una persona che viaggia, lo avrai notato. In alcuni posti, il tuo corpo semplicemente non si calmerà. Sei completamente sfinito, ma non riesci a dormire. Questo è perché a casa tua, nella tua camera da letto, oggi c'è qualcosa che viene chiamato gli scienziati forensi usano questa parola. Termografia. È così. Vedi, se ti siedi qui ora, 24 ore più tardi, qualcuno verrà con un apparecchio e scoprirà dove era seduta Gaia 3. C'è una memoria sul posto che sono in grado di rilevare. Questa persona era seduta proprio qui, non lì. Beh, se porti il tuo cane, lui sa che era seduta qui. Non è così? Quindi qualcosa è lasciato lì. Non è così? Qualcosa è ovviamente lasciato lì. Ecco perché un cane, un apparecchio o altro può rilevarlo. Quindi, dormi tutti i giorni nello stesso letto. Qui un certo aspetto della tua energia rimane. Qui sei molto confortevole. Se vai in un altro posto in cui le energie sono molto diverse, il tuo corpo potrebbe non calmarsi. A volte potrebbe essere dannoso per il sistema. Quindi una persona che viaggia costantemente indossa un rudraksh in modo da avere un bozzolo della propria energia così che le energie esterne non lo disturbano. Chiamiamo questo Kavacha. Sai cos'è Kavacha? Kavach. È più come un bozzolo. È un bozzolo della tua energia. Ovunque vai, hai la tua camera da letto privata che viene con te. Viaggia con te ovunque tu vada. Soprattutto nei viaggi. la tua aura si logora. Questo è il motivo per cui ti senti così esausto con il viaggio. In realtà stai seduto e non fai nulla. Qualcuno guida. Stai seduto e basta. O dieci ore ti accorgi di essere così stanco. Non hai fatto niente. Siccome la tua energia si logora, il corpo si muove a una velocità più elevata rispetto a quella per cui è stato progettato. Quindi la prima cosa che viene danneggiata è la tua aura. Se vai più veloce più veloce più veloce diciamo viaggi a 900 km all'ora in uno spazio aperto senza parabrezza. Vedrai la tua pelle si staccherà non è così? Poi la tua carne volerà via. Poi le tue ossa voleranno via. Sì o no? La prima cosa che inizia a essere danneggiata è la tua aura. Quindi con il movimento con un movimento sempre più veloce l'aura si logora. Se indossi un rudraksh ti dà un certo bozzolo dà una certa stabilità alla tua aura affinché il viaggio il movimento possa essere ben sopportato. Questo è anche una specie di protezione. Sai che le persone usano delle energie negative per influenzare la vita degli altri. E sei consapevole? Come lo chiamate qui? Sì Billy Shuniam Magia Nera o come la chiami ci sono diversi tipi di arti. Uno dei quattro veda un veda è dedicato a questo. La Tarvana Veda è interamente dedicato a come manipolare l'energia a tuo beneficio e a danno di qualcuno. Se indossi un rudraksh ti protegge anche da questo tipo di situazioni negative. Molte volte queste cose potrebbero accadere a delle persone anche se non sono dirette verso di loro. In questo momento diciamo che qualcuno fa della magia nera a me ma io non sono ricettivo. Tu sei tutto qui potresti prenderla. Non è necessario che sia indirizzata a te. Se sei predisposto in un certo momento la prenderai. Quindi molte volte le persone possono attraversare dei brutti momenti e cose del genere. non attribuirlo a questo non voglio creare paura nella tua mente. Ma molte volte abbiamo visto persone influenzate da certe cose senza sapere cosa accada incolpando ogni tipo di cose senza sapere esattamente cosa stia accadendo loro. Indossare un semplice mala dà un certo livello di protezione a quella persona. Un'altra ragione per cui le persone indossano questo è che anche in natura se hai sete e cammini nella giungla hai trovato un po' d'acqua la bevi potresti essere avvelenato potresti paralizzarti o morire perché anche in natura l'acqua potrebbe essere avvelenata con certi gas sai certi laghi e altre cose hanno una brutta reputazione sai la gente i tribali altri hanno paura che ci siano dei fantasmi che esistono questo è semplicemente perché l'acqua è avvelenata da certi gas e quant'altro la gente la consuma istantaneamente ha dolori e soffre per questo ho ottenuto qualche altro tipo di denominazione se mantieni il tuo rudraksh sopra l'acqua ti dirà se berla o no se qualsiasi alimento arriva di fronte a te se lo tieni se c'è anche solo un po' di veleno immediatamente andrà in senso anti-orario fammi vedere controlleremo quest'acqua non sai mai questa è acqua buona ci metti una piccola goccia di veleno che non puoi rilevare con l'odore o il gusto quel tipo di veleno tieni questo e vedrai immediatamente andrà in senso anti-orario questo è un altro motivo e ci sono vari altri aspetti in merito abbassa la pressione sanguigna nel tuo sistema i tuoi nervi saranno calmi questo tipo di cose oggi i medici stanno prescrivendo i rudrakshi in India per l'ipertensione i disturbi cardiaci i medici prescrivono proprio i rudrakshi dicono indossa questo la tua pressione scenderà perché ha un certo riverbero che calma l'intero sistema lo scopo principale è quello di renderti disponibile alla grazia perché alla fine non importa che circo fai che yoga fai cos'altro fai alla fine è solo diventando disponibile alla grazia che diventi una possibilità è per questo che un devoto raggiunge la realizzazione più velocemente di chiunque perché si offre così se questo senso di offerta non viene introdotto lo yoga diventerà un circo senza grazia qualunque cosa fai che sia processo spirituale salute ricchezza successo non ci sarà successo in nessun ambito della vita se in qualche modo non diventi disponibile alla grazia questo è certo o diventi consapevolmente disponibile o inconsciamente a modo tuo sei diventato disponibile ok ogni essere umano ogni creatura sta diventando disponibile in qualche modo ma se consapevolmente lo fai diventare parte della tua vita allora ogni cosa funziona sai è una vita ben lubrificata ogni cosa funziona bene senza intoppi quindi il Rudraksha sta creando questa possibilità migliorandola un po' non che senza Rudraksha non sarai disponibile alla grazia lo sarai è solo che vuoi utilizzare ogni supporto a tua disposizione non che vuoi utilizzare